Ben ritrovati sul canale di Monza News, sono le 9 del mattino, sono rientrato a casa attorno alle 2 dopo una bella trasferta a Torino. Volevo regalarmela visto che quest'anno riesco a vedere poche partite allo stadio, invece questa di Coppa Italia sono riuscito a gustarmela pieno partendo nel pomeriggio, andando allo stadio con largo anticipo perché volevo insomma godermi questa serata con la speranza di passare il turno. È stato un po' un sogno nel cassetto andare all'Allianz Stadium al seguito del Monza e per l'occasione ho voluto indossare questa maglietta che mi è stata regalata anni fa dalla Curva Pieri con la scritta Monza, dietro c'è una bella scritta andiamo a comandare forse perché all'epoca c'era una canzone che andava di moda. Vabbè ieri applausi al giocatore del Monza e applausi anche ai suoi tifosi che hanno cantato dall'inizio alla fine ad un certo punto della partita si sentivano soltanto loro, è stato bello, è stato bello poi a fine partita sono andati avanti per, io credo di aver lasciato lo stadio e loro erano ancora dentro a cantare quindi applausi anche a loro, applausi alla squadra, applausi al Monza perché ha fatto una partita grandissima gli è mancato qualcosa probabilmente là davanti 60% di possesso palla, ho letto, secondo me si poteva calciare in porta un pochino di più perché nel calcio se non calci in porta non segni, mi piace il gioco del Monza ad un certo punto sembrava davvero che ci fosse soltanto una squadra in campo però poi devi andare a calciare, devi andare a calciare e secondo me è mancato questo e a un certo punto della partita credevo davvero di farcela, di andare ai quarti pensavo che Paladino schierasse qualche, non dico titolare perché poi qualcuno si offende ma magari qualche giocatore che gioca un po' più spesso però è stata fatta una scelta, è stata fatta una scelta diversa secondo me anche per dare una vetrina a quei giocatori che potenzialmente potrebbero avere marcato che potrebbero andare via, il Monza d'altronde ha un grosso problema in questo momento che sono le uscite perché nessun giocatore a parte sia Tunis ha lasciato il Monza e quindi la Coppa Italia rappresentava oltre ad un riconoscimento ai tanti giocatori che lavorano ogni giorno con impegno a Monzello anche una possibile vetrina per quei giocatori che invece potrebbero lasciare il Monza ieri Paladino è stato chiaro, è stato fatto un discorso a tanti di loro a diversi di loro perché il Monza non si può permettere di andare avanti con 35-36 elementi in rosa quindi l'appello che lanciamo anche noi ragazzi se non giocate più dovete andare via perché comunque è brutto secondo me stare qua percepire lo stipendio e non giocare magari l'opportunità da altre parti di avere qualche chance di giocare ricordiamoci sempre che il Monza come dice Paladino è una neopromossa e che quindi la partita di ieri ci deve riportare un po' alla realtà adesso si ripartirà dal campionato con questo divario importante ma ancora colmabile dalle squadre che sono dietro perché le squadre che sono dietro stanno avendo un ritmo bassissimo addirittura c'è la Cremonese che non ha ancora vinto una partita in un altro campionato il Monza sarebbe ancora imbischiato per la lotta per non retrocedere però siamo fiduciosi perché sotto la gestione Paladino il Monza ha cambiato registro, ha cambiato ritmo, ha una media punta abbiamo fatto due conti da zona europea e quindi bisogna assolutamente andare avanti così non mollare la presa adesso c'è un solo obiettivo che è il campionato cercare di stare lontani il più possibile dalla zona bassa della classifica e perché no magari avvicinarsi alla zona centrale Adriano Gagliani aveva messo come obiettivo quello di arrivare al decimo posto questa squadra ce la può fare questa squadra secondo me può puntare anche l'ottavo posto perché comunque l'ottavo posto ti darebbe la possibilità di non partire dai turni di Coppa Italia se non sbaglio salti i primi 4-5 turni se non ricordo male e quindi questo potrebbe già essere un nuovo obiettivo da fissare per questa stagione capitolo mercato noi ve lo stiamo dicendo da tempo da altre parti si legge che arrivano determinati giocatori il Monza invece è stato molto chiaro prima dobbiamo vendere poi magari acquisteremo io credo che un giocatore da qui alla fine del mercato alla fine arriverà 1-2 giocatori però se non parte nessuno ripeto con una rosa di 36 elementi non puoi andare avanti e quindi ritorniamo al discorso di prima giustamente prima di acquistare qualcuno devi vendere è stato un po' un mantra anche quando Gagliani era al Milan diceva se non parte nessuno non arriva nessuno e qua è uguale anzi devono partire diversi elementi anche perché la vera difficoltà al di là che magari qualcuno va sempre in tribuna che non viene più convocato è l'allenamento tu quando ti alleni con 35-36 elementi fai veramente fatica e quindi io mi auguro davvero che da qui alla fine del mercato possa partire qualcuno perché comunque ripeto non puoi andare avanti a lavorare con una rosa così enorme no siamo veramente contenti dopo la serata di ieri è stata una serata davvero indimenticabile la prima volta dei monzesi all'Allianz Stadium faremo un servizio il nostro corrad era in curva per raccontarvi quella che è stata la prima volta dei monzesi allo Stadium vi abbiamo raccontato la prima volta in Serie A dei monzesi a San Siro dei monzesi a Napoli al Maradona per la prima volta in Serie A vi abbiamo raccontato la trasferta di Genova e abbiamo deciso di raccontarvi anche la prima all'Allianz Stadium di Torino è stata una serata veramente indimenticabile per chi c'era ecco forse mi aspettavo un po' più un po' più tifosi perché 350 tifosi per uno Juventus Monza me ne aspettavo un po' di più ve lo dico in maniera molto molto sincera ma quelli che c'erano sono stati fantastici e quindi va bene così magari ce ne saranno di più in campionato ieri sera faceva freddo insomma tante poi insomma è sempre difficile tornare a casa alle 2 di notte e svegliarsi alle alle 6 e alle 7 del mattino per noi giornalisti che non facciamo nulla come tanti credono dalla mattina alla sera magari è un po' più semplice però insomma per chi magari deve andare in fabbrica e essere lucido è assolutamente è assolutamente diverso ovviamente lo dico col sorriso sulle labbra poi complimenti alla Gazzetta dello Sport non so se c'è una talpa a Monzello se c'è qualche spifforo se c'è qualche giocatore che ha la lingua lunga se c'è qualche dirigente che ha la lingua lunga ieri la Gazzetta ha beccato penso l'unico giornale l'unica testata 11 giocatori su 11 ma addirittura il modulo ha beccato addirittura il modulo che nessuno sapeva di noi noi abbiamo ogni tanto abbiamo qualche informatore anche noi magari riusciamo a beccare 1,2,3 titolari la Gazzetta ne ha beccati 11 su 11 qui complimenti niente da dire chissà chi è la fonte a Monzello perché voglio dire su una rosa di 36 mi viene difficile pensare che la Gazzetta si alza al mattino e azzecchi 11 giocatori su 11 compreso un nuovo modulo vabbè complimenti ripeto nessun problema ora testa al Sassuolo testa al Sassuolo abbiamo dei precedenti favorevoli con loro Sassuolo per me rappresenta una semifinale playoff con un gol di Marco Zaffaroni una partita incredibile vinta dal del Monza di Begnini che poi ci proiettò alla finale di Pisa ho ancora negli occhi quella partita da lì in poi le strade sono state un po' diverse se il Monza ha fatto tanta fatica negli anni Sassuolo invece ha costruito qualcosa di incredibile è un modello è una società modello quest'anno sta avendo tante difficoltà rivedremo Davide Frattesi che è un ragazzo straordinario squisito con una famiglia alle spalle favolosa sono contento di rivedere Davide in Serie A è diventato un giocatore da nazionale è diventato un giocatore un uomo mercato è rimasto a Sassuolo forse avrebbe meritato una chance importante anche lui di andare a giocarsi subito quest'anno una grossa occasione lo farà a giugno a giugno Davide Frattesi andrà in una grande squadra lo saluteremo con tanto affetto perché è uno che in un Monza dove magari qualcuno tirava sempre no sempre no tirava ogni tanto indietro la gamba lui la gamba ce la metteva sempre dava sempre il massimo aveva sempre il sorriso stampato sul viso ecco se ho se ho un sogno sul mercato avevo un sogno di rivedere Matteo Pessina con la maglia del Monza ecco un domani l'altro sogno è di rivedere a suo fianco Davide Frattesi non glielo auguro non lo auguro a Davide perché spero che faccia una carriera importante che possa andare in una squadra importante e blasonata che possa lottare anche per lo scudetto però ecco mi piacerebbe prima o poi rivedere Davide Frattesi con la maglia del Monza d'altronde questa società ci ha fatto capire che può arrivare chiunque qua può arrivare Balotelli può arrivare Boateng può arrivare Matteo Pessina quindi chissà magari un domani rivedremo Davide Frattesi con la maglia del Monza credo di avervi detto tutto mi raccomando state collegati su Monza News perché a breve pubblicheremo il video di di Cora del Brianzolo sulla trasferta dei monzesi all'Allianz Stadium appuntamento lunedì a Unica Calcio Monza torneremo a parlare di Juve Monza parleremo di Monza Sassuolo insomma avremo tante cose e poi grande spazio naturalmente al calcio mercato mi raccomando vi aspetto lunedì sera Unica Calcio Monza ore 21.30 Unica TV e poi ogni giorno l'edizione del telegiornale di Monza e Brianza ciao alla prossima e buon weekend e Grazie a tutti.